Buonasera a tutti. Quali prospettive per l'economia del nostro Paese? Quali saranno i prossimi scenari nel futuro con cui dovremmo abituarci a convivere? Ed ancora, vi saranno delle nuove opportunità di lavoro? Nasceranno delle nuove professioni, delle nuove arti, dei nuovi mestieri? Di questo e tanto altro abbiamo parlato con Franco Colombo, presidente di IRSEU, Istituto di Ricerche, Scienze Economiche e Sociali, che ha mandato alla nostra redazione dopo aver parlato con noi un proprio contributo video che adesso andiamo a vedere. Quali prospettive per il dopo economiche? È importante cominciare a ragionare, a pensare, ad avere un'idea di quello che si può fare dopo che questa crisi sociale e sanitaria passerà e si riprenderà, in maniera graduale naturalmente, a parlare e a fare economia sul territorio. Come Istituto di Ricerca delle Scienze Economiche e Lomani, IRSEU, stiamo facendo un'analisi su quelli che possono essere gli scenari futuri e soprattutto le attività future che avranno un ruolo molto importante all'interno dell'economia del nostro territorio. Ma innanzitutto questa crisi ha portato a delle abitudini diverse, che saranno anche delle opportunità in futuro. Una di queste, ad esempio, è tutto il tema legato agli acquisti online di cibo e di tutte le necessità che normalmente si fanno in una spesa al supermercato, e quindi del trasporto di queste derrate alimentari e quant'altro presso il domicilio delle persone. Abbiamo visto che siamo arrivati impreparati per una cosa del genere. Era una piccolissima porzione dell'attività che facevano questi grandi centri commerciali in maniera autonoma e questa cosa porterà alla nascita anche di servizi, un po' anche, da questo punto di vista sulla scia dei delivery, della consegna di cibo preparato da parte dei ristoranti all'interno delle abitazioni. Anche questo sarà uno sviluppo molto importante da parte anche di ristoranti tradizionali, perché sono cambiate un po' le nostre abitudini. Faremo un po' fatica forse a ritornare immediatamente a riempire i ristoranti, visto che saremo tutti un po' scottati dal discorso delle prescrizioni sanitarie, della distanza e di quant'altro. Bene, anche questo è qualcosa che avrà sicuramente un grande sviluppo. Avrà un grande sviluppo tutto il tema della sanificazione, tutto il tema dell'igienizzazione. Cambieremo un po' le abitudini. Probabilmente saremo più abituati a portare le mascherine in certi periodi dell'anno, quando ci saranno i picchi influenzali o quant'altro, o per certe fasce di popolazione, quella o per 65, in determinate occasioni. E anche questo, tutto quello che può essere un presidio di igienizzazione all'interno della propria abitazione, del proprio luogo di lavoro, diventerà qualcosa con la quale avremo a che fare in maniera molto, ma molto più presente rispetto al passato. E quindi un'oltre grande occasione per sviluppare delle idee innovative anche in questo settore dei servizi, perché è quello che concerne l'attività. Anche dal punto di vista della consulenza, il fatto del concetto dello smart working, che per esempio il caro amico Mario Cesaroni ha avuto modo di presentare in uno dei contributi video, che la trasmissione, ok parliamone, ok Italia parliamone, Massimo Morosini ha portato, e sono estremamente importanti per un discorso e un ragionamento anche economico, anche lo smart working ci porterà a fare della smart consulenza, e quindi della consulenza senza spostarsi nei luoghi direttamente di lavoro, magari molto di più in remoto, e ci darà anche l'abitudine di evitare spostamenti inutili, che è un aspetto estremamente importante, e anche si rimodula il concetto dello trasporto. Anche qui, se dobbiamo percorrere meno distanze, se dobbiamo percorrere meno chilometri, lo potremo fare magari anche in maniera più green, quindi un ulteriore sviluppo di tutto quello che è l'elettrico, il trasporto elettrico, sia scooter elettrici, macchine elettrici o quant'altro, e punti di ricarica, che diventeranno dei veri e propri service. Ma un'altra cosa, io sono molto convinto, lo studio che stiamo facendo è molto importante, che si implementeranno delle zone di lavoro, di co-working, che saranno a disposizione delle persone, perché una delle difficoltà di lavorare da casa è un po' uscire dall'ambiente casalingo che può anche distrarre, che saranno delle vere e proprie postazioni a disposizione delle aziende per far lavorare in remoto i propri collaboratori, in un ambiente con fibra, con alta velocità, con tutte quelle strutture tecnologiche a supporto dell'attività dei propri collaboratori, e che gli permetteranno anche di avere un lavoro all'interno dinamico, confronto con altri professionisti, e di avere le proprie postazioni disseminate lungo il territorio per permettere di passare a pochi chilometri da casa, a poco spazio da casa magari ai propri lavoratori, di avere una propria postazione di lavoro pronta per essere utilizzata quasi H24 rispetto a quelle che sono le esigenze. Quindi anche questa logistica del lavoro cambierà e verrà utilizzata in maniera più importante rispetto al passato, anche se ci sono state esperienze che erano però molto limitate ad aziende di startup, ai liberi professionisti, a giovani professionisti, writer, web designer o quant'altro che avevano bisogno di spazi con poco costo. Ecco, qui invece diventerà, secondo me, e secondo gli studi che stiamo facendo con il nostro istituto di ricerca, un qualcosa che aiuterà ad avere quell'infrastruttura per fare consulenza, learning, per fare lavoro a distanza, e tutto quello che in questo momento ci darà una percezione diversa di come poter lavorare in maniera efficace disperdendo meno risorse, perdendo meno tempo in spostamenti, e poi l'aveva detto anche il nostro amico Mario Cesaroni, anche con un aspetto molto green, molto verde. Allora ragioniamo, facciamo muovere il ragionamento perché questa sfida economica parte da oggi, da adesso, non facciamoci trovare impreparati, non pensiamo di aspettare che qualcosa succeda, cominciamo a farlo ad accadere adesso, lavorando in questi ambiti per permettere di avere delle soluzioni economiche. Interessante il contributo video di Franco Colombo, ricordo presidente di IRSEU. Franco Colombo ha toccato tanti temi, tra cui ha toccato il tema dello smart working, con cui tutti dovremmo abituarci ad avere a che fare, ancora ha toccato il settore importante del deliverance, ovvero di tutto quello che la consegna a domicilio dei prodotti, che sempre più prenderà piede anche verso la ristorazione tradizionale, ed ancora da questa esperienza, dai propri studi pare che emergerà anche un nuovo tipo di trasporti, molto più green, quindi con più rispetto per l'economia, ma anche per l'ambiente. Grazie a tutti, al prossimo appuntamento.